Gran finale per autoritratti.rar, il museo immersivo voluto dall'assessorato al turismo del comune di Avellino guidato da Laura Nargi insieme allo studio Canaca Neconicoli Longobardi della città Capologo. Il cuore dell'Avellino Sotterranea oggi a partire dalle ore 18 sarà il coronamento del percorso con il progetto Primitiva, un collettivo artistico costituito ogni volta da membri diversi che si cimenterà in una serie di musica improvvisata in linea con lo spirito di una mostra empatica e dalla componente istintiva fortemente marcata. L'appuntamento è nella grotta principale per un evento senza precedenti ad Avellino che va a concludere questo progetto cominciato il 15 dicembre che ha dato vita ad un'esperienza unica e suggestiva dove guidati da proiezioni di grande potenza comunicativa ed emotiva l'utente ha avuto l'occasione di attraversare le intricate gallerie longobarde patrimonio storico-culturale di inestimabile valore nel cuore del centro storico di Avellino attraverso un cammino multisensoriale fatto di luci suoni e colori e un viaggio interiore imprevedibile e introspettivo per un'esperienza senza precedenti.